Uga! Uga! Caccole ardenti! Che cos'è? È un boomerang ardente! Ehi, veniamo in pace! Faccio parte della tua stessa tribù! Sono io, Riff! Lo so chi sei, traditore! Ehi, ma è mia sorella Finn! Bel colpo, sorellina! Ora, lasciaci andare! Ho sentito dei combattimenti qui. Strane luci ed esplosioni. Così sono venuta a indagare e trovo te che scimmiotti la nostra danza sacra di guerra. Con questi sconosciuti hai usato la magia proibita per distruggere le antiche rocce. Farai ritorno alla fortezza da prigioniero per poter rispondere del tuo tradimento. Non vi preoccupate, sta scherzando. E allora? Tu hai il terrore dei Morcogon! È così da sempre. Da piccoli giocavamo spesso lì sotto e lui ne usciva urlando. Reef, non si può realizzare il taglio perfetto usando più energia. Bensì usando il proprio cuore. Sì, d'accordo, ma in ogni caso scateniamo tutta la nostra energia. Tià! Sei riuscito a controllare il tuo temperamento. Dov'è il nemico? Niente nemici. Sei qui per un allenamento. Allenamento? Perché chi ne ha bisogno? Noi no, lo so. Ma non vuoi mostrare a tutti chi è il migliore? Ma sì, certo. Perché sono io, ovviamente. Sì! Bel lavoro, guardiani. Però non diremo a nessuno come abbiamo vinto questa battaglia. D'accordo? Serve un colpo preciso. Al centro della colonna d'aria. Ad essere onesti sembra una cosa un po' strana. Ottimo lavoro, guardiano. Dividere il vento? Ne ho sentito parlare. È il test leggendario. Infatti sarà leggendario. Sprigiona il tuo fuoco, Urik. Giusto in tempo, guardiano. Ho bisogno dell'energia del fuoco. Concentrati. Sì! Gormiti, gormiti, raggiungibili. Chi mi fermerà? The legend is back. The legend is back. Gormiti! Gormiti!